Siamo con uno dei ragazzi della scuola media Martin Luther King di Accadia. Di che cosa parla il vostro articolo? Di pace, disarmo nucleare e cambiamento climatico. Come avete affrontato l'argomento? Abbiamo partecipato a dei convegni tenuti sia ad Accadia sia ad Ariano con Giovanna Pagani e un professore universitario, Angelo Baracca. Va bene, grazie.